Presidente Monti, un'altra inaugurazione importante sul territorio, questo pronto soccorso pediatrico e l'assuma di un grande lavoro durato parecchi anni. Sì, sono davvero molto contento, orgoglioso di aver portato continuamente la bandiera varesina nella regione Lombardia e con l'aiuto di Attilio Fontana aver portato i fatti concreti. L'inaugurazione di questo pronto soccorso pediatrico unico in Italia e direi nel mondo della sanità pubblica forse unico nel mondo, così bello, così grande, con delle attrezzature di così grande valore. E poi il terzo lotto che sarà la sfida fondamentale di questo ospedale del Ponte per essere concluso e diventare il grande hub pediatrico per servire oltre 2 milioni di abitanti in tutta la nostra bella Lombardia. Ecco, senta, per delle strutture che aprono, importanti, altre che rischiano di chiudere, come l'ospedale di Quasso? Non parlerei di chiusura, io parlerei di riorganizzazione. Oggi la Val Cereso in questo caso ha bisogno di avere innanzitutto un presto, un ospedale di comunità nel territorio Val Cereso, ad Arcisate, Induno, in una zona centrale per servire meglio i cittadini. Parallelamente a questo, una struttura che 80 anni fa aveva un grande significato, oggi rischia di diventare un corso importante per la regione, deve essere ritrasformato, riqualificato. Il mio sogno, e vedremo come andrà, è avere lì un grande riferimento sociosanitario assistenziale per dare un nuovo tema, ma sempre di cura, alla persona nel territorio Val Cereso.